Un secolo importante, proprio oggi partono i festeggiamenti di quello che è il 100 anni del liceo Galilei, del primo liceo scientifico del nostro territorio, istituito per reggio decreto proprio nel 1923. Su questo da oggi partirà tutta una serie di eventi, di appuntamenti importanti, anche di riflessione sul mondo della storia e sulla storia di questa nobilissima scuola che oggi festeggia 100 anni e perciò quello che vuole essere non solo il ricordo del passato ma anche la prospettiva futura su quelli che sono i tanti investimenti anche a livello di innovazione che questo liceo scientifico fa e sta facendo da tanti anni ma sui quali soprattutto in questi giorni sta non solo riflettendo ma anche sta mettendo veramente a terra tutti quelli che sono delle novità importanti.